Mi chiamo Nancy, vivo a Palermo in Italia, sono assistente amministrativa presso l'UPMC di Pittsburgh che opera a Palermo e sono paziente con la CIDP. Nel 2006 incominciai a cadere in modo inusuale e molto spesso. Ho avuto due fratture, una al piede sinistro, una al piede destro, diverse distorsioni. Essendo che venivo da una storia con la sindrome di Guillain-Barré temevo di avere qualche problema con l'equilibrio, un po' perché pensavo fossi troppo stanca, un po' perché non riuscivo a organizzare mentalmente il percorso da fare. Così riprese le visite specialistiche presso un neurologo e da lì capì subito che si trattava della CIDP, pur avendo avuto una storia con la sindrome di Guillain-Barré. Una volta scoperta la CIDP incominciai la terapia con le immunoglobuline. Le immunoglobuline dapprima mi venivano somministrate ogni 8-10 settimane. Ho avuto una sensazione di ripresa, di benessere, ma non del tutto recuperata perché sentivo ancora che mi mancavano le forze. Tant'è che da lì abbiamo incluso anche delle terapie con il corticosteroide. Questo mi aiutava, mi dava molto più energie. Ad oggi eseguo sempre le somministrazioni di immunoglobuline, ma in modo più ravvicinate, ogni 5-6 settimane, sempre con il sostegno del cortisone giornaliero. Dopo un anno ritrovai il mio equilibrio fisico e anche mentale. In linea di massimo cerco di eseguire le terapie senza che intralciano la mia vita, anche se è molto difficile perché devo sospendere le attività, sospendere il lavoro, sospendere la vita sociale perché i tre giorni in cui somministro le immunoglobuline ovviamente devo recarmi in ospedale, impiego dalle 3 alle 4 ore in ospedale. Ogni giorno è una sfida perché svegliandomi la mattina ho difficoltà fisiche perché già mi sveglio stanca. Però non mi lascio battere dalla fatica e dalla stanchezza perché voglio vivere la vita in modo pieno. Quindi affronto la mattinata andando al lavoro, rientro. Se ci sono altre attività da svolgere per la mia vita familiare, lo faccio. Magari durante la settimana non posso permettermi una vita sociale serale per via della stanchezza, ma se dovesse capitare non sempre rinuncio perché poi alla fine la fatica si recupera. Ho scoperto l'esistenza della fondazione nel 97, quando tornai negli Stati Uniti dopo aver avuto la sindrome di Guillain-Barré. Non ero ancora paziente di CDP. Cercavo informazioni riguardo alla malattia, non c'era internet. Così scrivemmo alla Cleveland Clinic Foundation e questi ci fecero pervenire dei documenti che parlavano della fondazione. Una volta messa in contatto con la fondazione mi diedero tutti gli opuscoli, la documentazione che parlava della sindrome di Guillain-Barré e dal 97 sino alla scoperta della CDP ho sempre ricevuto la newsletter, informazioni, aggiornamenti. Tant'è che quando scoprì di essere paziente di CDP ero già preparata perché ne avevo letto, ne avevo sentito parlare e il sostegno della fondazione è stato fondamentale come paziente. Io adesso rappresento come volontaria la fondazione come referente per l'Italia. Ogni qualvolta un paziente approccia la fondazione si trova nell'area mediterranea, in Italia e anche nei dintorni e la fondazione mi inoltra a questo contatto. Subito mi attivo per contattare il paziente, per conoscere i suoi problemi, i suoi dubbi e mi metto a disposizione per eventualmente parlare, condividere ed eventualmente cercare di capire se posso aiutarlo anche nell'indirizzarli verso le strutture adeguate. La fondazione ci fornisce tutte le informazioni necessarie per accedere alle strutture di eccellenza, dove poter seguire degli studi sulle nostre patologie. E ci sono anche dei gruppi di supporto che aiutano il paziente nel percorso che molto spesso non viene compreso dalla famiglia, dagli amici, oggi perché è una malattia che in alcuni casi è invisibile e soltanto chi vive nelle difficoltà della patologia può sostenere l'altro.